Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo per questo giovedì. Una giornata stabile su buona parte della penisola grazie all'invadenza dell'alta pressione nordafricana all'interno del Mediterraneo. Tuttavia, dato che non ci troviamo in presenza di un anticiclone particolarmente forte e coriaceo, osserveremo la tipica instabilità pomeridiana estiva nelle aree più interne e in montagna da nord a sud. Pertanto in Abruzzo si prospetta una nuova giornata stabile al mattino con cieli sereni ovunque, mentre durante il pomeriggio, nelle primissime ore della sera, tendranno a svilupparsi i temporali pomeridiani che localmente potrebbero rivelarsi molto intensi. Tutto questo in particolar modo sull'Aquilano settentrionale, a ridosso del Gran Sasso, anche della Maiella, fenomeni localmente in estensione anche ai settori collinari. Non escludiamo anche qualche isolata, forte, grandinata, più stabile e soleggiato invece lungo le coste e il primo entroterra. Le temperature saranno stazionate con massime non oltre 29-30 gradi. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.